Buongiorno da Simone Raggi, System Tech, Villa Nuova Sul Crisi, Brescia. Oggi vogliamo presentarvi un prodotto molto particolare, un prodotto che sta riscontrando notevole successo a livello nazionale anche grazie ai processi di innovazione che alcuni segmenti di mercato stanno operando in questi ultimi anni. Oggi chiaramente ci limiteremo a presentare alcune caratteristiche tecniche che contraddistinguono il nostro totem denominato System Tech Kiosk rispetto ai totem della concorrenza e a darvi qualche spunto su alcuni campi di applicazione che questi prodotti molto particolari che si discostano dal classico prodotto dell'Information Technology può avere nel settore turistico ma non solo come vedremo insieme. System Tech Kiosk è un totem interattivo multitouch con display a 6 tocchi. Chiaramente esiste sia in versione indoor da interno che in versione outdoor da esterno. I totem da interno sono più sottili, hanno delle rifiniture di pregio e vengono utilizzati dai materiali esteticamente più gradevoli rispetto alla versione che qui vedete a mio fianco che è una versione da esterno outdoor dove si punta più chiaramente sulla affidabilità, sulla robustezza dato che il prodotto deve essere esposto ai raggi solari e alle interferie diciamo climatiche atmosferiche. Questi totem System Tech Kiosk da esterno outdoor esistono in versione con display da 32 pollici, 42 pollici, 46, 55 e 65 pollici. Disponiamo di una gamma che si adatta benissimo a moltissimi settori merceologici che devono catturare l'attenzione del passante e dell'utente. Grazie alla nostra applicazione è possibile memorizzare dei contenuti multimediali e fare in modo che l'utente che si pone, quindi il turista o comunque il passante che si pone di fronte al vostro totem Touch Interattivo Multimediale possa semplicemente con alcuni tocchi usufruire delle informazioni in esso contenute. Questa versione da esterno posizionata in zone strategiche della vostra città permette di catturare l'attenzione del passante e di offrire dei contenuti multimediali che il navigatore, che l'utente può scaricare direttamente sul proprio smartphone grazie a dei QR code e a delle applicazioni che System Tech può offrire alla vostra attenzione. Vi ricordiamo che System Tech può offrire dei preventivi personalizzati che vanno a progetto ricordiamo anche la possibilità di usufruire di bandi regionali per il finanziamento di questi investimenti da parte di amministrazioni pubbliche invitiamo tutti a contattarci per avere delle quotazioni personalizzate. Grazie per l'attenzione e a risentirci al prossimo video tutorial. Grazie a tutti.